L'arte non nasce dalla ragione La ragione è un sistema di regole per intenderci Nasce dalla follia che ci abita Solo che la gente non pensa di essere folle Basterebbe che guardasse cosa succede di notte Nelle sue rappresentazioni oniriche E li capisce che la follia è lo stato puro Dopodiché ci sono coloro che hanno il coraggio di entrare nella propria follia Questi sono gli artisti Che giustamente Adiger chiama i più arrischianti Perché non è mica detto che una volta che entri nella tua follia Questa non ti rapisca perché è molto più potente della ragione E Carly Aspers che è stato il più grande psicopatologo del Novecento Dice che ogni volta che noi contempliamo un'opera d'arte Ci comportiamo come quando ammiriamo una perla Dimenticando che la perla è la malattia della conchiglia Così quell'opera d'arte senza la schizofrenia dell'autore Non sarebbe mai nata Quindi l'arte è un evento della follia Solo che noi abbiamo pochissima pratica con la follia Ne abbiamo anche poca con la ragione Ma questo non depone bene perché la follia che fa arte Platone la chiama divina E dice che i doni più grandi ci vengono dalla follia Naturalmente date per dono divino Detto da lui che ha inventato la ragione per tutto l'Occidente E' una frase importante E' una frase importantissima E' importante anche questo ragionamento Sull'importanza della follia Nell'epoca odierna più che mai In cui tutto è tecnologico Quindi apparentemente razionale Meccanico E forse diventa ancora più importante La voce dell'artista e della sua follia Anche per orientarsi in questa contemporaneità In cui lo smarrimento e la solitudine dominano le nostre vite E' solo che il mercato e la tecnica hanno divorato anche l'arte Se io faccio un quadro Quel quadro diventa opera d'arte se entra nel mercato Perché se sta fuori dal mercato Diventa solo un'espressione biografica E allora sarebbe compito dell'arte Sganciarsi dal mercato se ce la fa Ma penso che sia molto difficile questo E penso che anche tutta la storia dell'arte Cosa testimonia? Che i pittori e gli artisti Lavoravano Se venivano opportunamente pagati Quindi erano già nel mercato Però erano in un mercato differente Meno tecnico Più personale Che contemplava delle relazioni Tra convittente e artista Anche delle forme di ira Non so Giulio II che vuole buttare giù Dalla cupola di San Pietro Michelangelo Ecco allora che cosa succede? Se anche l'arte si arrenda a tecnica e mercato Nasce un'arte fredda Io trovo che l'arte contemporanea Io non me ne intendo di arte Quindi le mie frasi possono essere anche insignificanti La trovo fredda E mi domando ogni tanto Di fronte a queste espressioni dell'arte contemporanea L'artista sarebbe in grado di disegnare un volto Io ho qualche dubbio Si è persa proprio l'etimologia della parola arte Tecnesa Per fare Saper costruire L'arte viene da Ars Che appunto Vuol dire E che è in comune anche con l'artigiano Perché sarebbe bello invece imparare dall'arte Che quello che tu impari Il discepolo non è che impara perché va ai corsi di formazione Il discepolo impara perché va in bottega Il medico impara se va nella sala operatoria Il candidato maestro impara se va da un vero maestro Ecco l'arte potrebbe insegnare questo ritorno alla bottega dell'artigiano Perché fuori dalla bottega non farai mai né arte né cultura Esatto Un ritorno sia alla bottega e forse a quel saper fare e a quel calore Si parlava di freddezza E' una relazione umana che c'è tra maestro e discepolo Quando il maestro è davvero un maestro E non è uno che seduce Seduce e seduttive sono le cose che fa Come un professore non deve sedurre con la sua personalità Ma con la cultura che ha tra le mani Grazie professore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti